Siamo nel mese di febbraio e che secondo le logiche dell'annata agraria è il mese più corto, anche se quest'anno essendo invece il 2024 bisestile avrà un giorno in più. Ci sono dei detti riferiti a febbraio come per esempio Mario Chi è il famore era la moere alla porte sotto il sul di febbraio? La mettevano al sole facendo ancora freddo in questo periodo sicuramente si ammalavano. Oppure si dice anche da queste parti nel Bresciano ma anche nel Cremonese la neve che non si fa più vedere assolutamente la sgiunfo al granere. Perché la neve portava acqua e l'acqua specialmente al frumento rimaneva nel campo il frumento lavorava di più e diventava più bello e più ricco. E ancora se febbraio al gallo l'uno e chi ha due bestie al navende giorno. Perché lì era legato, se c'erano le due lune voleva dire che l'annata sarebbe stata buona e potrebbe tenere più bestie. Siccome la luna era una sola doveva tenere solo una bestia perché l'altra rischiava di non mangiare, di non avere cibo abbastanza. E naturalmente questi detti, ma non solo questi, ce ne sono tanti altri, sono strettamente legati all'annata agraria, ai culti agrari e alla civiltà rurale. E anche al tempo. E anche al tempo perché il lavoro sui campi dipendeva al 100% dei capricci del tempo.